Allora, buongiorno a tutti, siamo al McBoom di Rivoli, Fabio non contento del dolce, esatto, appunto, ci sta facendo vedere come si mangia un cucchiaino biodegradabile, ecco vedi? Fabio è buono questo cucchiaino biodegradabile, che gusto ha? Non è male, vedo che è buono, ecco, un cucchiaino di... Allora, dopo aver mangiato il nostro McBoom senza cunicium, no, come si chiamava questo panino? Sto mangiando veramente. Come si chiamava questo panino? Non lo so, allora era buono. Goutte da Sutta, Goutte da Sutta. Abbiamo bevuto questo. Stacca che ti sei tagliato la bocca? Davvero, fai vedere, dai, fai vedere, ti sei tagliato la bocca? Dai, dai, facci vedere, un attimo. Ti sei tagliato la bocca? Io facevo uno spettacolo. Sai già che qua YouTube da Paolo? No, 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 no. No, no, dai, non lo metto su YouTube, dai, figurati. Si è tagliato la bocca! Mangiando un cucchiaino biodegradabile al McBoom. Non è come biodegradabile allora? Eh, beh, beh, fammi una ripresa anche a me, io non vengo mai nei video. Et voilà! BJ! Dai, tagliamo la bocca pure a lui. Dai, provo a fare qualche cazzata a chi? No, no, non tagliarti la bocca pure te. Mangio questo io, eh. No, no, adesso non è il caso che io, insomma, faccio. Si è messo. F*** si è messo. F*** si è messo. F***gli vedere. Dai, che poi poi dopo fa schifo. Non lo metto su YouTube, no? No, non lo metti su YouTube. No, no, no. Lo metti su YouTube, Andrea? No, io. No, io su YouTube. Non so neanche come si fa. Si fa in qualche modo, non so. Non so. Non so. E, dov'è? Perché ti tieni il tovagliolo nella bocca? Si è fatto male? Comunque, ragazzi, da Rivoli è tutto. Ci rivediamo... Su YouTube? Su YouTube. Ma te non patisci il sangue? No, dai, forse non. No, 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 no. Eh, aspetta, aspetta. C'è che tanto che patisci il sangue? No, no, no. Vediamo, vediamo. Dai, che schifo. Dai, ma non è schifo, dai. È roba buona, genuina. Sì, YouTube è dappile. E qua siamo al McBung, è tutta roba bio... Di natura bio. Fai fai vedere se riesci a mangiare qui questo. No, no, no. Beh, signori, da Rivoli è tutto. Ci vediamo prossimamente. Il motto di sempre è Usquat Finem, fino alla fine. Ciao.